Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per incidente un chilometro di coda tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione Sud. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!